Ragazzi adesso si è unito, Francesco saluta Francesco, questa la vinciamo, ce la facciamo Comandare C'è la galleria Eh sì Per quello che ha meno armi va a luttare la cosa, al ponte Attenti alle persone brutte, non c'è nessuno ha tomato, abbiamo tutto a tomato per noi Guarda come sono a basso Normalmente Ti asci i colpi Ma dai, no, non fare sai No, 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 ok No, non ti preoccupare Quante Eh sì, troppo Eh, io ho tredici Io ho tredici Grazie Allora L'altra mia Uh, no, oh dai, no dai La cosa era mia Oh mamma di dare Sembra Montas Eh neanche io, buongiorno Eh infatti mi prende il pompa Sì 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 Atterra da te La guarda ne ha atterrato un altro Vabbè, prima gli ho fatto un headshot Non so come Ma non è morto Non è vero Vedi che è già male che si frega i colpi Allora se trovi un pompa normale Ti consiglio Fra ti consiglio pompa tattico e pompa nuovo Quello epico Tieni già me Tieni già me 15 Tieni già me Tieni le band Ah no, no Tu c'hai già le tue band Tieni Ma dai Ma dai Non ha costruito Un pezzente Vabbè, aspettate che vengo Uh, dove stanno? Ho atterrato io Ok, dove stanno? Uh Ma dove? L'ho ucciso, ucciso Ok Ok Eh vabbè, stavo cambiando, stavo sbucciando Gianmi uccidilo, uccidilo, Gianmi Gianmi uccidi, Gianmi uccidi, Gianmi uccidi, Gianmi uccidi, Gianmi Ancompo Devi mirare, devi mirare, Gianmarco Ma Gianmarco Ma io ti sento Ma se non è che sto io che sto allagando No, no Ok, meno male Mi stavo Sto preoccupando C'è uno dietro di me che mi stava freccando qualcosa Così, poi andate all' Negli Letali Eh, l'ha capito vedi Francesco però beh due secondi non è che non ci va nessuno a massimo un team minigun a volte non ho detto che vanno sempre però cos'è almeno luttiamo e poi andiamo a land no ruttiamo luttiamo attenti c'è spoglie mattina mia pensavo fosse una trappola ero una pianta che ero uguale posso dire che c'è una mhm allora ma giustamente troppo sculati oh io devo stare attento a questi qua prendo già il pompa non so che è di un ragazzo praticamente si aprì la porta di uno di questi cosi di queste casette si aprì e praticamente però vede che non c'era nessuno non c'era nessuno dentro alla casetta un pochettino c'è una raga c'è una c'è una c'è una aspetta che lo ammazza clatti aspetta che non ho sbagliato band si si ce l'ho allora eeeh ma ma perché oh ma è piccolissima piccolissima è grande no la sei guardate dove dobbiamo andare è no la sei guardate dove dobbiamo andare no la sei piccola no vabbè non è che è piccolissima però oh c'è una raga c'è una c'è una c'è una ragà 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 dove state voi ragà mi sta seguendo si si c'è un mietitore eh giustamente io sto dall'altra parte oh dove dove stanno no aspettate no no ragazzi ragazzi no ragazzi no ma cosa è successo mi stavano sparando dal lato ma non c'era nessuno c'è uno oh al centro non c'è la cesta what si si no no l'ho fregato io aspetta si po poca ontas non sono neanche morto oh aspetta è giusto sta quello là stanno due ne ho messo una terra uccidilo ne ho messo una terra ne ho messo una terra non pensare a lui dietro madonna ho già marco però sei un pezzo di schifo qua girati dall'altra parte girati dall'altra parte sì dritto dritto oh 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 guarda l'arma eh con la portucina con la portucina c'è stai mettendo la confronto perfetto e cartolina e dove sta guarda 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 cazzo che van Di faccia non ce la faccio 100 v-back 200 v-back Mi posso prendere Scena 4 Scena 14 Vabbè Guarda Ci ha preso C'è qua c'è qua sta qua sta qua vieni muoviti 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 Qua hanno costruito il forzino di mia mamma Sono in due Sono in due sono in due forse ci hanno visti No non ci hanno visti Stanno confabulando Ci hanno visti Oddio mi ha fatto un headshot Vieni vieni cura cura muoviti cura No non pensare non pensare cura Una bugia pensa Pensa Ciao ragazzi